. A con dieresi al 7 barra verticale dollaro l e t islandese x barra rovesciata 8 i a ips x a con anello y con accento acuto e t islandese 8 a con dieresi. . T a con dieresi al ay con accento acuto a con dieresi a con con accento acuto barra verticale micro minore di o con accento circonflesso t a con dieresi x u con dieresi di negazione barra rovesciata punto esclamativo rovesciato x a con dieresi. . Esponente 1 t x a con anello y con accento acuto e t islandese. . T e t islandese a con dieresi al ay con e t islandese t tu con dieresi ud micro t i x a con anello y con accento acuto e t islandese t e t islandese, il lungo chiocciola con con accento acuto la h u con dieresi a f e t islandese e t islandese negazione x a con dieresi pi 3 dp e t islandese o con accento circonflesso e micro a con dieresi chiocciola ese con carona ftp, minore di t più o meno o con accento circonflesso i barra rovesciato ux 0 grado a con dieresi al. A o e 2003 di kb su con dieresi barra verticale a x euro t minore di p o con accento circonflesso barra rovesciata con dieresi al t a con dieresi a x t n t barra verticale chiocciola it a con tilde n con tilde a e di a con dieresi n con tilde t chiocciola u con dieresi barra verticale e t islandese. A o e 2003 di kb su con dieresi barra rovesciata con dieresi al barra rovesciato u con dieresi um.